Cominciamo dall'Ariete. Le stelle vi rendono schivi, ma non isolatevi completamento, i rapporti lavorativi e sociali potrebbero risentirne negativamente. Toro. Gli astri incentivano viaggi, colloqui e frequentazioni sociali, però sul lavoro evitate i colpi di testa, rischierete clamorosi autogol. L'amore è in serbo qualche dissapore, ma fare la pace con il partner dopo una lite sarà molto intrigante. Gemelli. Potrete guadagnare quattrini ed evitare spese, ma niente azzardi. Una sorpresa piacevole rallegrerà i rapporti di amicizia e vi porterà una dose extra di buon umore. Cancro. Uscite dal guscio, frequentate amici e conoscenti, apritevi insomma al mondo. Sul lavoro sarete vincenti, capaci di avviare iniziative fortunate, mentre l'economia promette belle impennate. Leone. Le stelle vi offrono una spiccata immaginazione, ma vi rendono meno accorti e razionali nelle vostre valutazioni. È opportuno rimandare scelte importanti. Amicizie e vita sociali vi regalano momenti invece di grande allegria. Vergine. Giornata tutto sommato positiva per voi. Sfumano alcune ansie lavorative che vi hanno preoccupato negli ultimi tempi, mentre nel privato i rapporti di amicizia e sentimentali ritrovano smalto e freschezza. Bilancia. Drammatizzare i problemi oggi sarà facile, con le stelle che confondono le idee e portano a spendere capitali rendendo tesi i rapporti. Siate più fiduciosi e ottimisti, ne avete tutti i motivi. Scorpione. Il cielo odierno è vostro alleato nell'impresa di incrementare i vostri successi, sia privati che di lavoro. Avete infatti carisma, fascino, intuito e sapete trarre il meglio da ogni situazione. Sagittario. Oggi avrete una marcia in più. Per ottenere ciò che volete sarete capaci di mosse astute. La mente sarà un magma di idee, intuizioni, ispirazioni. Avrete una diversa sensibilità anche nei rapporti interpersonali. Capricorno. Oggi farete bene a stare in campana. Sul lavoro le rogne faranno come le ciliegie. Una tirerà l'altra. E l'amore non sarà certo fragole e champagne. Acquario. Se l'organizzazione non è certo un problema per voi, lo sarà certamente per qualcun altro, forse un collega, distratto, approssimativo nel portare a termine i compiti affidati. Pesci. Gli astri sono propizi. A voi rispetta il compito di impegnarmi in scopi precisi per non disperdere energie. Sprizzerete entusiasmo da tutti i pori e la fortuna incentiverà le iniziative di lavoro ed affari. Grazie.